Grazie a tutti. Vediamo ora in maniera più precisa quali erano le azioni di sabotaggio compiute durante la Seconda Guerra Mondiale sullo Stiglia Treviso in quella zona, cioè Ronchi di Piombino. A pagina 110 del diario De Stefani troviamo un'importante testimonianza dei sabotaggi sullo Stiglia Treviso. Le forze partigiane avevano fatto saltare la linea ferroviaria a Ronchi. Questa linea era molto importante per i tedeschi. Era la linea più corta per la destinazione dei trani merci per la Germania, di tutto quello che rubavano nel nostro povero territorio. La linea era stata interrotta in tre punti in una sola notte. La partecipazione dei partigiani della Brigata Ercole è confermata da Francesco Basso in un'intervista del 17 gennaio 1998, nella quale parla nuovamente dell'azione compiuta sul cavalcavia ferroviario tra lo Stiglia e la Val Sugana. Al tempo dell'azione del ponte eravamo solo cinque o sei persone e così siamo andati a chiedere rinforzi al gruppo di Fabris. Ci volevano diversi uomini per trasportare l'esplosivo, disarmare i guardafili, tenere a bada i tedeschi. Quella volta lì l'ordine era arrivato direttamente dall'Inghilterra tramite la missione radio. Lo spionaggio sapeva dirci tutto, orari dei treni, merci trasportate, destinazione. Il nostro problema più grosso era costituito da un militare tedesco messo a guardia al ponte. Per piazzare l'esplosivo abbiamo dovuto aspettare i momenti in cui si spostava più lontano. È stata un'esplosione spettacolare. Il ponte, minato solo da un lato, si è coricato sulla linea sottostante, la Val Sugana. La circolazione dei treni è stata bloccata per una intera settimana. Alle pagine 16 e 17 del Diario Storico della Brigata Giustizia e Libertà Silvio Trentin troviamo riportate in modo dettagliato e preciso le azioni del mese di settembre 1944. Il giorno 3 una squadra locale mina il cavalcavia ferroviario sulla linea Treviso-Ostiglia in località Piombino-Dese. A mezzanotte il cavalcavia salta, bloccando per due giorni anche la sottostante linea Mestre-Valsugana. Il traffico ferroviario sulla Treviso-Ostiglia è interrotto per cinque giorni. Il 23 è nuovamente la volta del cavalcavia ferroviario di Piombino-Dese sulla Treviso-Ostiglia. Raddoppiate le cariche, il ponte salta nuovamente, bloccando per più di una settimana le due linee Treviso-Ostiglia e la sottostante Mestre-Valsugana. A pagina 69 riservato al Duce della Guardia Nazionale Repubblicana Padovana si parla di un secondo attentato con citazione anche del primo. Trebasseleghe, attività dei banditi e ribelli. Il 26 settembre ultimo scorso, fra le stazioni ferroviarie di Trebasseleghe e Ronchi di Piombino, alcuni banditi, mediante cariche esplosive, facevano crollare il ponte in ferro, precedentemente danneggiato in seguito ad un atto di sabotaggio. Le macerie interrompevano la linea ferroviaria Mestre-Castelfranco. A pagina 98 di Una laurea sotto il pagliaio, l'autore Gianfranco Fabris cita l'azione di far saltare il ponte ferroviario all'incrocio tra la linea Ostiglia e la Valsugana, quale nodo importantissimo per le comunicazioni naziste, come rientrante in un piano già studiato nei minimi particolari. In molti giustamente mi avete chiesto questo video di approfondimento. Dopo aver visto i video sulla missione ZZZZ e sulla caduta di Vladimiro Paoli, la domanda era, ci sono state altre azioni partigiane? Ecco quindi che con questo video vi ho dato le informazioni trovate. e con l'elenco delle fonti vi ringrazio per l'attenzione. E con l'elenco delle fonti vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti